Adesso c'è una data, il 15 ottobre. Fra un mese esatto il Governo presenterà, insieme alla legge di stabilità, l'annunciato Master Plan per il Sud. Fra un mese sapremo cosa intende fare il Governo Renzi per aiutare la crescita del nostro territorio, con quali e quanti soldi, con quali e quante iniziative. Un orientamento c'è già e per la verità ci sarebbero anche i soldi. Praticamente sono gli stessi che da anni, quasi un decennio, sono fermi in cassaforte. Cioè sono gli stessi soldi che pensava di poter utilizzare Fitto quando fece da Ministro delle Regioni il suo piano per il Sud. Sono gli stessi soldi che reinserì nel suo piano per il Sud il Ministro Barca, il suo successore. Insomma, sono sempre gli stessi. Solo che adesso, probabilmente, si potranno spendere. Nei precedenti piani quei soldi erano rimasti congelati, sia perché non si decise chi doveva spenderli, e sia perché c'erano vincoli europei che lo impedivano. Adesso il Governo chiederà una deroga alla Unione Europea, una specie di flessibilità, e quasi certamente otterrà il consenso. Così, con 3 miliardi, si potranno finanziare opere realizzabili in poco tempo e soprattutto riaprire cantieri chiusi. A spendere quei soldi saranno le Regioni alle quali lo Stato li trasferirà. Altri vantaggi poi il Sud li potrà ottenere con nuove deroghe fiscali e contributive specifiche. Le aziende che assumeranno otterranno benefici esclusivi in tutti i settori, dall'edilizia all'agricoltura. Il piano, ha detto ieri il Ministro Padoan, è pronto ed è facilmente e immediatamente attuabile. Beh, allora viene da chiedersi perché dobbiamo aspettare ancora un altro mese? Grazie a tutti. Grazie a tutti.